Buonasera, sono Vachi Gianluca, direttore commerciale di Comtec Italia, azienda di distribuzione per il mercato audio e video professionale. Comtec è un'azienda che fa parte di un gruppo europeo che ha sede in Germania tramite la Comtec Germania. Siamo qua oggi in Olanda all'ISE a presentare Just Hard Power, una soluzione nuova e innovativa. Sostanzialmente si tratta di trasmettere il segnale HDMI con la gestione dell'HDCP tramite una rete LAN cablata. Praticamente si va a superare quella che è la soluzione classica della distribuzione punto-punto per andare a trasmettere il segnale direttamente su una rete LAN già cablata. Il Just Hard Power gestisce la trasmissione sia punto-punto ma anche punto-multipunto, multipunto, multipunto. Sostanzialmente può ricreare attraverso una soluzione innovativa anche la gestione classica di una matrice analogica fra le più conosciute. L'utilizzo del Just Hard Power in realtà, oltre chiaramente alla trasmissione del segnale, può prevedere anche una soluzione diversa che è quella per esempio del video wall. Quindi attraverso un receiver per ogni monitor possiamo ricreare una soluzione video wall fino a una configurazione 9x9. Quindi praticamente è il punto di contatto fra il mondo audio-video e la parte IT informatica.